Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale Maravenier, in questo periodo ha deciso di riposarsi dal lavoro e con il marito aveva il desiderio di andare a Santo Domingo per una vacanza. Purtroppo pare che qualcosa sia successo e le cose non sono andate come previsto. Infatti negli ultimi giorni Mara si è mostrata sui social con una foto in cui appare con l'occhio bendato. Mai tranquilla, così ha detto zia Mara in un post rivolgendosi ai fan che hanno notato subito la fasciatura e quindi hanno capito che qualcosa non andasse per il verso giusto. A svelare che cosa abbia la conduttrice ci ha pensato il marito Nicola Carraro, che ha voluto tranquillizzare da una parte i fan che chiedevano che cosa avesse la conduttrice. Alcuni avevano ipotizzato che l'Avenier potesse avere una semplice cataratta ma le cose secondo quanto dichiarato da Carraro non stanno così. Purtroppo no, così ha risposto il marito a chi chiedeva che cosa avesse l'Avenier. Il marito della conduttrice non ha fornito ulteriori spiegazioni e ha mostrato chiaramente il disappunto per quanto detto sui social media dagli utenti. Il gesto del marito dell'Avenier ci fa capire come la situazione sicuramente non sia da sottovalutare e ha quindi voluto far presente che questo è un momento in cui rispettare la privacy della famiglia e della stessa conduttrice. La conduttrice sarebbe stata inoltre operata proprio all'occhio.